Ecco, vi voglio dire questo, dite male del gravattaro, dite, non so, che la lezione dei miei versi vi fanno all'anima, spendete una parola buona per Sik Sik, un artefice magico, io ve le prego, considerate, non so, il capostibite di tutti i personaggi che, prima o io, vi presenterò durante le trasmissioni future. Sik Sik è un uomo che deve fare il zumbo mortale per poter vivere e alla fine ci riesce, questo è l'augurio. Mi avete ricarosciuto? Mi avete ricarosciuto, eh? Eh? E chi sono? E chi si? Allora non mi avete ricarosciuto? No. E perché avete fatto, eh? Vado dentro un uomo, l'ho detto pure io. E che faccio qui per provare, non ci fai? Ah, spesi, hai ragione, potremmo calteremo qui, oggi mi stanno andando a tratturino, state che è piatto a mano, pizza, pizza, pulmusi. Ma non ti dice, ma puoi piacere, ma guarda a tratturino, davanti ai te latri. Ma io non mi caldo, non tu ritami. Io sono Sik Sik. Sik Sik credo che sia un personaggio importantissimo, un personaggio che è paragonabile a personaggi bechettiani, una drammaturgia del Novecento europea, molto molto profonda, racconta attraverso il suo corpo, attraverso le sue parole, racconta un'intera nazione, un intero momento storico. È una metafora di miseria, di tristezza, di malinconia, ma anche di straordinaria vitalità. È una metafora che è anche molto attuale. Lo è. Tutti i testi teatrali importanti non parlano solo nel tempo in cui vivono, ma anche dopo secoli. È un onore e un onore molto particolare. Affrontare un testo che non è stato mai fatto prima da adesso, perché non esisteva il copione, perché Giulio Baffi l'ha scoperto lui e l'ha proposto a Pierpaolo e Pierpaolo l'ha proposto a me e agli altri amici, agli altri colleghi. Quindi è veramente un impegno molto molto gravoso. Se senti, si vede. Questa senti, alla vostra presenza, eseguono gli esperimenti più famosissimi e comincio con quello, il tuo picchino. Tre come inizio. Avere un Edoardo inedito è sicuramente un colpaccio. Siamo grati a Giulio Baffi, che ha voluto affidarcelo. È stato lui a registrarlo durante una replica al San Ferdinando del 1979. Lui registrò questa cassetta, che adesso è stata pubblicata, e ci ha affidato questo magnifico copione, che è stato rappresentato 50 anni dopo l'originale di Sik Sik. Ed è chiaramente vive di tutte le ricchezze dell'attore Edoardo, oltre che del drammaturgo Edoardo. Quindi ci sono delle improvvisazioni, ci sono proprio delle invenzioni sceniche che Edoardo immaginò per il testo, che diventò più ricco, più forte, più bello, più divertente, ma anche più malinconico. Tu quando dici un colpo, me la sento un colpo. Dopo il successo di Medea, quindi torni in scena al teatro nuovo con una commedia, questa volta, quindi con uno spettacolo completamente diverso. Cosa ti aspetti da Sik Sik? Ma non so cosa Sik Sik si aspetti da me più che altro, perché Sik Sik è talmente conclamato, è talmente sicuro. Lui speriamo di essere all'altezza. Io sono molto contento di alternare momenti di tragedia, come Medea, momenti magari di commedia, come quelli di Sik Sik. Anche se Sik Sik credo che abbia una profondità e una durezza che non ha certo da invidiare nessun testo. Sik Sik è veramente una drammaturgia piena, completa, assoluta, importante. Quindi non vorrei che si pensasse a commedia come un elemento ridotto di qualità. No, è una commedia di straordinaria importanza, di straordinaria bellezza. Ho avvenuto in tutto il monte la mia grande fama di emozionista. Sik Sik, che ha strabinato tutti i popoli della terra, si trova finalmente questa sera davanti al bordo. La mia amica è stata quasi romanzeci. Aveva sette anni. Sette. Quando cominciò a farci un barile dalle cose. Il Giappone ha corso i miei dodici anni, io a tredici mi baciò in fronte. Il sole durì. Il miracolo più grande lo fece in Germania. Fece scomparire una bullona di perla di una signora e non furono più cristiani di ritrovare. E con questo gioco non so per quanti anni abbiamo combattuto io e tutta la famiglia mia. Sik Sik è un uomo disperato che non sa più come riuscire a portare avanti la propria esistenza perché la propria esistenza non ha nessun senso e allora per cercare di trovarne uno prova a fare dei trucchi, prova a fare dei giochi di prestigio ma non riescono più. E quando i trucchi non riescono più c'è poc'altro da fare. Signori! Ho fatto il gioco di metacorpora! Il cromo che si tromba la rabbia! L'ho fatto sparire! L'ho fatto trovare nel cappello del signore! E l'ho fatto diventare bambastro! Lo stottuto! Voi stoo! Voi stoo! Voi stoo! Voi stoo! Voi stoo! Grazie.